Le politiche fiscali possono avere un impatto significativo sulla crescita economica di un Paese. Le decisioni riguardanti la spesa pubblica, la tassazione e il bilancio dello Stato possono influenzare il livello di attività economica e la capacità di crescita a lungo termine. Una politica fiscale espansiva, caratterizzata da maggiori spese pubbliche e o riduzioni delle imposte, può stimolare la domanda aggregata e favorire la crescita economica. Questo accade perché un aumento della spesa pubblica può incoraggiare la produzione e l'occupazione, generando un effetto moltiplicatore sull'economia. Allo stesso tempo, una riduzione delle imposte può aumentare il reddito disponibile delle famiglie e delle imprese, incoraggiando la spesa e gli investimenti. D'altra parte, una politica fiscale restrittiva, caratterizzata da minori spese pubbliche e o aumenti delle imposte, può ridurre la domanda aggregata e frenare la crescita economica. Questo accade perché una riduzione della spesa pubblica può portare a una diminuzione degli investimenti pubblici e dell'occupazione nel settore pubblico, mentre un aumento delle imposte può ridurre il reddito disponibile delle famiglie e delle imprese, limitando la spesa e gli investimenti. Inoltre, le politiche fiscali possono influenzare anche la capacità di crescita a lungo termine di un paese. Ad esempio, un'elevata pressione fiscale può disincentivare la creazione di nuove imprese e gli investimenti, limitando la capacità di innovazione e di sviluppo tecnologico. Al contrario, una politica fiscale che favorisce gli investimenti in ricerca e sviluppo, l'istruzione e l'infrastruttura può promuovere la crescita economica sostenibile. Infine, le politiche fiscali possono essere utilizzate anche per affrontare problemi strutturali dell'economia, come la disuguaglianza o l'instabilità finanziaria. Ad esempio, un sistema fiscale progressivo può contribuire a ridurre la disuguaglianza di reddito, mentre una politica fiscale contraziclica può aiutare ad attenuare gli effetti delle crisi economiche. In conclusione, le politiche fiscali possono avere un impatto significativo sulla crescita economica di un Paese. La scelta di politiche fiscali espansive o restrittive, insieme alla loro composizione e alla loro efficacia, può determinare la direzione e l'entità della crescita economica, nonché la capacità di sviluppo a lungo termine.